...il Daniella e Augusto, in quale ha sacrificato stasera la sua eventus per venire qui, che è tutta qui. La dove è la facciosa? Come si chiama la facciosa? Agnese. Ad Agnese è l'adolescenza in fiore che ci riassume tutti, è la media nostra, fa la nostra media, e noi ci dedichiamo anche tutto questo nostro, tutto quello che è, ci dedica a noi. E io chiudo così, mi saluto prima, dicendo un pensiero alto. Noi vogliamo anche informare la dialettica e che chiamo. L'idealismo logico e chiediamo parla di un'autoscienza dell'assoluto come solo il momento, nella presa di coscienza dello spirito, io un po' sforzescamente dico che il momento spreco dello spirito è l'autoscienza lirica dell'assoluto, autocoscienza lirica dell'assoluto che si chiama Frau Musiker, la quale ha poi, in sé medesima, perché è all'inizio un clan, capito che abbiamo, cioè suono primitivo, e poi si è diffuso nelle cose, la quale è dita essenzialmente musicale, musica e musicale. Tutto ciò che è, è musicale. Autocoscienza lirica dell'assoluto, vita come autocoscienza lirica dell'assoluto, Dio come autocoscienza lirica dell'assoluto. In nome vostro ringrazio la vita e io svolto che probabilmente sono la stessa cosa. Cagliari. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.